Buongiorno e bentrovati ai giornali in edicola, la nostra consueta e quotidiana rassegna stampa in primo piano sui quotidiani di oggi, la via diplomatica per tentare di risolvere il conflitto Russia-Ucraina e naturalmente le prime pagine sono dedicate proprio alla telefonata tra gli Stati Uniti e la Russia che però come sappiamo non ha dato una svolta, spazio anche alla politica interna con gli interventi del Premier Draghi all'indomani del suo ritorno da Washington e l'impegno per la ripresa energetica soprattutto a partire dal sud dell'Italia con la necessità appunto di investire proprio nel sud dell'Italia e poi la cronaca partiamo subito con il Corriere della Sera USA-Russia primo contatto, come vedete questo è il titolo scelto dal direttore Luciano Fontana per l'apertura il Pentagono chiama Mosca, ora il cessato e il fuoco stop di Erdogan a Finlandia e Svezia nella Nato e questa è l'altra notizia del giorno perché appunto dopo la decisione di Svezia e Finlandia di aderire appunto alla Nato c'è il veto di Erdogan proprio a questa decisione con la motivazione che appunto questi paesi ospitano i terroristi kurdi liberato il centro di Kharkiv, queste invece le notizie che arrivano dal campo come sta andando il conflitto città per città il Corriere dedica infatti uno spazio proprio ad una sorta di mappa del conflitto in Ucraina le sanzioni di Londra all'amante di Putin, questa è l'altra notizia andiamo a leggere qualche rigo invece dell'editoriale di questa mattina appunto in prima pagina le mischie italiane di Massimo Franco c'è da chiedersi che cosa sarebbe successo in questi mesi se invece di Mario Draghi nei consensi europei e statunitensi fosse apparso un premier espresso dai populisti per di più sostenuto da una maggioranza tanto eterogenea quanto risicata non è difficile prevedere che peso e credibilità dell'Italia sarebbero stati fortemente ridotti al di là dell'inesperienza dei protagonisti e nonostante la garanzia costituita dal capo dello Stato Mattarella in queste settimane nelle quali il governo di emergenza e di unità nazionale viene interpretato in modo conflittuale e ridotto a una sorta di coalizione dei nemici non sarebbe male ricordare il punto di partenza giugno 2018 maggioranza anti-europea e anti-Nato con Conte né candidato né eletto in Parlamento dai grillini cooptato come premier e con il Quirinale costretto a sfiorare una crisi istituzionale per aver detto no alla proposta leghista di nominare ministro dell'economia un personaggio ostile alla moneta unica per poco più di un anno osservati con diffidenza dal resto dell'Europa 5 stelle leghisti hanno governato con rapporti sempre in bilico fino a cadere fragorosamente tra insulti reciproci a proposito poi di politica interna c'è un primo piano nel Corriere un'intervista al leader della Lega Salvini io elemento di stabilità azione di pace con i leader dell'Unione Europea l'Italia lavori per la pace con la Germania e la Francia io garantirò la stabilità a parlare il leader della Lega Matteo Salvini sull'Europa spiega non siamo scettici ma i trattati vanno rivisti come vedete ancora in prima pagina le altre due notizie dicevamo la politica interna con Draghi basta pregiudizi ecco il piano per il sud del forum Ambrosetti sul mezzogiorno un piano di riforme per il sud dell'invito a cancellare i pregiudizi nei confronti del meridione del paese il premier Draghi protagonista insieme al governo del forum verso sud organizzato da Ambrosetti a Sorrento la ministra Carfagna sta nascendo un nuovo mezzogiorno e poi la cronaca inchiesta Camici Fontana ha prosciolto non luogo a procedere perché il fatto non sussiste il gruppo di Milano ha prosciolto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, suo cognato Andrea Dini e gli altri imputati per l'inchiesta Camici l'accusa era a frode in pubbliche forniture per il contratto di vendita di 75.000 Camici che la Dama Spa aveva stipulato con la regione Riconosciuta la mia onestà, questo il commento del governatore Andiamo a vedere invece l'apertura di Repubblica Telefono rosso, questo il titolo scelto per questa fotonotizia dove vediamo ritratto il ministro della difesa russo Shoigu durante la parata per il giorno della vittoria il 9 maggio e infatti il ministro della difesa degli Stati Uniti Austin chiama il russo Shoigu inizia il dialogo sul cessato il fuoco Putin sente Scholz Washington l'opzione diplomatica grazie alla resistenza ucraina Mosca si ritira da Kharkiv ma avanza nel Donbass dunque Biden ha scelto i militari per riaprire il dialogo con Mosca perché soprattutto sul campo di battaglia che Putin sta perdendo la sua guerra i generali sono forse la componente del regime con più potere per riportarlo alla ragionevolezza e dunque dicevamo qualcosa si muove si muove soprattutto sul fronte diplomatico anche se di fatto non c'è una svolta andiamo a vedere le altre notizie di spalle della prima pagina di Repubblica Draghi il Sud sarà l'hub per il rilancio energetico come dicevamo prima ma è l'altra notizia del giorno i dubbi di Musk su Twitter e il titolo crolla come sapete Elon Musk ha fermato la trattativa di acquisto appunto della piattaforma perché ha detto troppi profili falsi andiamo a vedere l'apertura della stampa la stampa titola così USA chiama Russia cessate il fuoco prima telefonata di Austin al ministro Shoigu Erdogan blocca l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato Biden spinge per l'alleanza con Helsinki e Stoccolma Ankara covidi terroristi Mosca si ritira da Kharkiv dunque come vedete nel sommario del titolo di apertura ritroviamo tutte le notizie principali spiega John Kirby portavoce del Pentagono che la telefonata tra Austin e Shoigu non è stata risolutiva sul tappeto i nodi restano ma i due ministri della difesa degli Stati Uniti e della Russia parlando si hanno rotto il gelo dopo 79 giorni di blackout è riacceso quel filo di dialogo che il premier italiano Draghi aveva chiesto si riattivasse andiamo avanti e proprio a commento della telefonata Stati Uniti-Russia c'è un pezzo, un approfondimento un commento a firma di Domenico Quirico titolato finalmente c'è un embrione di democrazia andiamo a leggerne un passaggio perché è interessante ovviamente sarà poi approfondito all'interno delle pagine del giornale manovre o segnali? forse manovre e segnali la telefonata di Austin capo del Pentagono al ministro della difesa russo Shoigu primo contatto diretto tra Stati Uniti e Russia dall'inizio della guerra innanzitutto pur lontani da facili e verbose fiducia verrebbe voglia di incorniciarla la telefonata dandole il significato non di un'ennesima rimasticatura di propaganda ma di propositi di una fase nuova finalmente si introduce un embrione di diplomazia dice Quirico lo scopo dichiarato è quello di proporre il cessato e il fuoco immediato e ristabilire linee di comunicazione per impedire che il focolaio si allarghi diventando incontrollabile e pericoloso sarebbe un ritorno a quelle abitudini ai prudenti contatti che hanno retto in questi anni anche durante il conflitto siriano i rapporti esili tra Mosche e Washington per evitare sul terreno scontri e frizioni raffiora la consapevolezza che il rischio di perdere il controllo e innescare l'apocalisse non è stato cancellato queste settimane cervellate e zeppe di escandescenze come sapete il tema della diplomazia di tentare una via diplomatica per risolvere appunto il conflitto russo-ucraino è sempre stata perseguita anche se di fatto non ha portato appunto non è stata risolutiva altra notizia che vorrei farvi vedere in prima pagina è la fotonotizia che come sempre la stampa dedica a mettere insieme due notizie due facce della stessa medaglia infatti titola così vittime carnefici perché da una parte appunto vittime Natalia Iana e la speranza delle protesi e ovviamente vittime di guerra carnefici perché ripreso il protagonista del primo processo per crimini di guerra Vadim Shishimarin questo giovane sergente di 21 anni russo Vadim e crimini di guerra questo è infatti il titolo della stampa l'altra notizia che ritroviamo in prima pagina nella stampa non l'abbiamo ritrovata invece nelle altre prime pagine quello che sta accadendo in Israele cariche della polizia e funerali di Shishimarin il mondo si indigna infatti è accaduto proprio in Cisgiordania per la durante il funerale della giornalista uccisa qualche giorno qualche giorno fa il sole 24 ore apre con la notizia sul decreto aiuti le ultime novità che emergono dalle misure del governo il bonus per le partite IVA ridotto per aiutare i titolari del reddito di cittadinanza lunedì il via al bonus auto moto e veicoli commerciali ma c'è il rischio del click day dopo giorni di attesa lunedì andrà sulla gazzetta ufficiale il testo del decreto aiuti con alcune novità di rilievo come la deroga al codice degli appalti con l'esenzione per la valutazione di impatto ambientale taglio significativo dei tempi per le autorizzazioni dei rigassificatori cambia anche la norma per il calcolo dell'extragetito fiscale per le società energetiche brutta sorpresa per le partite IVA che si vedono tagliato il bonus da 200 euro per finanziare l'aiuto ai percettori del reddito di cittadinanza sempre in prima pagina le altre notizie nei piccoli sommari appunto in taglio alto emergenza energia rigassificatori niente verifiche ambientali e deroghe sugli appalti la nuova platea per il bonus da 200 euro per i pensionati che costa 2,74 miliardi e infine il saldo IVA extra profitti la nuova tassa obbliga le imprese a rifare i calcoli ancora di spalla appunto l'opa di Twitter Musk fa e dis fa il titolo crolla Tesla rimbalza colpi di scena nel giallo sull'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk che con un cinguettio ieri ha annunciato la sospensione del deal da 44 miliardi di dollari per riconteggiare gli account fasulli subito dopo Musk ha detto di essere ancora favorevoli all'acquisizione ma Wall Street Twitter ha perso terreno e Tesla invece è salita andiamo avanti con le altre notizie della prima pagina appunto del Sole 24 ore rigenerazione urbana legge al via dopo 76 tentativi in 26 anni in 26 anni sono stati 76 provvedimenti nati nel tentativo di arrivare a una nuova legge urbanistica ora penso che sia doveroso avere una legge nazionale per la rigenerazione urbana che faccia da cappello lasciando liberi territori di esprimere le proprie potenzialità a parlare il presidente del Lance Gabriele Buia Parma durante l'ultima chermesse della sua presidenza l'approvazione del DDL al Senato segnerà l'inizio di un percorso nuovo e convinto Buia aggiunto alla fine del suo mandato terminiamo un percorso ma al tempo stesso ne apriamo un altro perché le proposte che presentiamo ora devono diventare realtà in tempi brevissimi andiamo a vedere il quotidiano della CEI avvenire come apre prima chiamata per la tregua il pentagono e la difesa di Mosca avviano un dialogo la Turchia si oppone all'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato ospitano terroristi Washington media le truppe dell'armata russa continuano a ritirarsi dalla zona di Kharkiv per riposizionarsi l'Unione Europea resta divisa invece sull'embargo al petrolio dall'est il Papa e Celi siano solo di pace andiamo a leggere qualche rigo del pezzo di apertura per Ancara l'adesione di Finlandia e Svezia la Nato non è positiva mentre l'Unione Europea non riesce a sbloccare lo stallo sull'embargo al petrolio per il no del premio ungherese Orbar sul fronte dell'alleanza creare problemi il presidente turco Erdogan che ha cercato finora di presentarsi come mediatore e nel giorno della prima telefonata dall'inizio della guerra tra il capo del pentagono e il ministro della difesa russo la controoffensiva ucraina nell'area della città nord orientale di Kharkiv inizia a sembrare secondo l'intelligence occidentale molto simile alla controoffensiva che alla fine ha ricacciato verso oriente le truppe russe da Kiev e dall'Ucraina occidentale e qui vedete una foto che racconta le distruzioni e le buche provocate dai missili russi a Bakhmut nella regione del Donetsk e subito sotto vedete questa foto questo boxino di colore diverso che richiama l'attenzione sugli altri conflitti esistenti nel mondo ovviamente su cui il Papa tante volte ha prestato ha voluto prestare attenzione non solo Kiev infatti si titola e dice il buco nero del Myanmar che inghiotta l'opposizione in atto un massacro che dura da 460 giorni con oltre 1500 morti nel solo 2021 e che oggi in una situazione di sostanziale guerra civile si fatica ad accertare e quantificare andiamo a vedere le altre notizie presenti in prima pagina segno figli l'ise da rifare depalo al forum per le famiglie servono commissario e ministero con il portafoglio l'ETTA per il partito democratico chiede una revisione Castelli 5 Stelle è d'accordo per evitare di penalizzare parte dei nuclei andiamo a capire qualcosa di più dal pezzo ora è tempo di un patto per la natalità che metta fine alle contraposizioni sulla famiglia nella seconda e ultima giornata degli stati generali per la natalità tutti d'accordo sulla necessità di una svolta dal segretario del partito democratico Enrico Letta arriva la proposta rivolta alla vice ministra dell'economia Laura Castelli di rivedere l'ise per il tema dell'assegno unico poi l'altra notizia di cronaca vedete subito accanto Fontana prosciolto dalle accuse per i camici alla Lombardia per il GUP nessun reato è stato commesso andiamo invece a leggere come sempre qualche rigo dell'editoriale di avvenire tre immagini per resistere coraggio antiretorico e antibelico a firma di Mario Chiavario leggiamo sono tante le immagini sconvolgenti che di questa guerra foto e video ci presentano ogni giorno altre non meno sconvolgenti ce le risparmiano solo perché vengono da conflitti in terre più lontane ma ci sono anche immagini che commuovono in positivo qui se ne mettono insieme tre ancorché dice a scura di esse si sia già detto e scritto molto ma particolarmente legate dal filo rosso del coraggio antiretorico la prima immagine la piazza rossa con l'intervento della polizia moscovita che si scatena contro persone inermi gente colpevole di alzare rudimentali cartelli con su scritto preceduto da un nieto cioè un no il vocabolo voine cioè guerra parola simbolo divenuta proibita o colpevole anche soltanto di esibire un fiore o di sventolare un foglio interamente bianco o di portare un semplice nastro verde al polso appuntato sulla giacca semplici parole semplici gesti persino semplici silenzi ma fanno ugualmente paura al potere che risponde in maniera brutale e qui il coraggio di chi sfida in modo fermo ma non violento i divieti sembra davvero non servire a nulla sul momento se avrà una carica dirompente sarà lunga gittata come nello stile dei visionari come è accaduto per gli animatori di quei movimenti clandestini che a suo tempo contribuirono per lo più pagando prezzi altissimi a sgretolare dall'interno la solidità dell'impero sovietico e a dar forza alla pacifica rivoluzione di Gorbachev nessuno può sapere se qualcosa di simile abbia prima o poi a ripetersi nella Russia di Putin non di meno se ciò dovesse accadere tra i primi a dover essere ricordati sarebbero quelli sconosciuti visionari che nel tardo inverno e nella primavera del 2022 lanciarono sfide apparentemente votate all'insuccesso e gravide di conseguenze pesantissime soltanto al loro carico la seconda immagine invece richiama una parola simbolo che si è sentita pronunciare molto in questi due mesi solidarietà quella della processione di convogli umanitari che misura assai più massiccio del prevedibile appreso a snodarsi sin dagli ultimi giorni di febbraio per raggiungere l'Ucraina o le regioni di confine per portare cibo generi e mezzi di soccorso e per recare diretta assistenza sanitaria a centinaia di migliaia di profughi in fuga indispensabili sicuramente altrettanto da subito coordinamento e assunzione di responsabilità istituzionali da parte di enti pubblici e solide sperimentate reti associative per evitare danni o sprechi da parte di generosi ma inesperti dilettanti e più ancora sfruttamenti della situazione da parte di cinici profittatori ma soprattutto al fine di procurare di garantire laddove necessario dopo la prima assistenza un'accoglienza effettiva dignitosa e altrettanto disinteressata andiamo a vedere l'apertura del messaggero il quotidiano della capitale anche qui in primo piano la telefonata USA Russia prove di dialogo il pentagolo chiama Mosca dopo tre mesi cessate il fuoco questa la richiesta il ruolo italiano Erdogan Gela Finlandia Svezia no all'ingresso nella Nato Ankara tratta su Azov Stahl quello che però interessa dell'apertura del messaggero è proprio questa fotonotizia che vedete gas e petrolio offerta algerina il ministro Arkab dice siamo un partner affidabile ma l'Europa deve investire l'Italia ci aiuti nella formazione ecco vedete in questa immagine un soldato ucraino in piedi su un tubo di impianto per il gas le altre notizie del giorno carichi al funerale della cronista la Cisgiordania si incendia intervento israeliano alle esequie Biden critico su quello che sta accadendo e poi Draghi spinge il mezzogiorno sarà lab per le rinnovabili come abbiamo detto al forum Ambrosetti il premier dice PNRR bisogna rispettare le scadenze il mattino apertura analoga USA Russia prove di dialogo il Pentagono chiama Mosca c'è stato il fuoco ma dall'Unione Europea nuove armi all'Ucraina la Turchia gela la Nato non all'ingresso di Finlandia e Svezia ospitano i terroristi appena quattro giorni fa negli Stati Uniti sembrava impossibile l'idea di parlare con la Russia Draghi lo aveva suggerito a Biden martedì e Psaki poche ore dopo spiegava che Mosca non sembrava disposta a negoziare e invece ieri il Pentagono ha colto tutti di sorpresa per la prima volta dal 18 febbraio il ministro della difesa Austin ha parlato al telefono con il collega russo Shoigu ma intanto dall'Unione Europea rilancio sulla fornitura di armi all'Ucraina e la Turchia gela la Nato sull'ingresso di Svezia e Finlandia nella alleanza Andiamo avanti l'altra notizia sempre sul fronte la fotonotizia vedete i russi perdono Kharkiv colpita una terza nave come sapete i russi si sono ritirati da Kharkiv ma stanno intensificando la presenza nel Donbass Draghi il sud è strategico basta con i pigri pregiudizi di questa l'altra notizia del giorno il premier centrale per la diversificazione energetica al forum Ambrosetti di Sorrento la Carfagna dice è una nuova stagione apertura della gazzetta del mezzogiorno stop ai pregiudizi sul sud quindi apre proprio con il forum di Sorrento al forum del ministro Carfagna il premier disegna un futuro mediterraneo per il mezzogiorno Fontana Confindustria rinnovare la decontribuzione vedete in questa foto il premier Draghi che riceve in dono la maglietta del Sorrento regalata appunto al premier le altre notizie del giorno Roma raccordo tra Unione Europea e Stati Uniti Putin si rassegni questo è l'approfondimento di Claudio Martelli e infatti lo riprendiamo subito sotto in questa foto notizia il Pentagono chiama Mosca in Ucraina cessate il fuoco e nella foto Vadim Shishimarin che sta subendo il primo processo in quanto soldato russo responsabile dei crimini di guerra ospedale in fiera il collaudo è nullo questa è l'altra purtroppo notizia l'appalto nell'inchiesta della finanza e poi un approfondimento sui sondaggi sul gradimento dei politici pugliesi De Caro vola giù Emiliano Bardi invece precipita in coda questo è l'approfondimento di Bebi Martellotta l'edicola del sud questa invece l'apertura scelta Amazon sceglie Bari come capitale del sud il colosso di Bezos pronto ad aprire un centro nel capoluogo centinaia di posti di lavoro in vista questo è sicuramente una notizia positiva la fotonotizia invece ritrae rifiuti e degrado negli spazi della Fiera del Levante da decenni simbolo di Bari della Puglia ma di fatto come titola appunto il giornale il gioiello abbandonato Fiera del Levante nel degrado che vergogna per la nostra città e poi le altre notizie di spa la donna e la violenza ora è anche economica il rilancio passa dall'Albania per quanto riguarda le notizie economiche e poi l'evento i maneskin a Castel del Monte in occasione della sfilata di Gucci che si terrà il prossimo 16 di maggio annunciata appunto la presenza dei maneskin al maniero federiciano patrimonio dell'UNESCO e concludiamo come sempre con il quotidiano del sud e l'altra voce dell'Italia qualche rigo dell'editoriale firmato dal direttore Roberto Napoletano mezzogiorno capitale del nuovo mondo il forum di Sorrento la pandemia cambia la globalizzazione rende il sud attrattivo la guerra in Ucraina ne fa l'hab energetico d'Europa servono investimenti pubblici privati serve la giusta collaborazione tra i primi e secondi serve che soprattutto quelli privati siano favoriti e si autopromuovano e soprattutto si realizzino questo significa dimenticarsi il sud di ieri e i luoghi comuni di troppo che lo hanno accompagnato e cominciare a costruire un mezzogiorno diverso protagonista delle grandi sfide questa è la storica assunzione di responsabilità da onorare sottolinea il direttore napoletano e continua poi l'approfondimento Carfagna dimenticate il sud come è esistito fino a ieri verso sud cioè gli scenari geopolitici e sempre sullo stesso tema il ruolo strategico dell'Italia la geopolitica dell'energia si sposta dalla Russia all'Africa e con questo è tutto vi ringrazio per averci seguito la nostra rassegna stampa termina qui grazie per essere stati con noi la linea come sempre va alla rete per la consueta programmazione e vi auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti